Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Questo è il corso introduttivo ad Adobe After Effects e siamo giunti alla lezione in cui affronteremo l'argomento forse più importante di tutto il corso, anche se forse è l'argomento più semplice da imparare in pochi minuti, ovvero gli effetti in Adobe After Effects. Quello che rende After Effects un software veramente potente sono gli effetti, sia quelli che trovate disponibili di default, sia quelli che potete acquistare, installare e con cui potete giocare. Perché è un argomento semplice? Perché di per sé applicare un effetto in After Effects è molto semplice. Perché è un argomento complesso? Perché ci passerete una vita sugli effetti. È impossibile imparare tutti gli effetti in un singolo corso. Ogni tecnica, ogni effetto speciale, ogni tecnica per creare della grafica animata può prevedere uno o più effetti e possono esserci diverse strade per raggiungere lo stesso scopo. Quindi il consiglio è impariamo ora ad applicare gli effetti e poi molta pazienza da soli o insieme ad altri tutorial per imparare ad adoperarli. Sono veramente tanti ma vedrete che prendendoci la mano poi in realtà i più importanti li utilizzerete di frequente e quelli più particolari, più ricercati li imparerete quando vi serviranno. Dicevo questo è un corso introduttivo quindi se siete capitati in questo video per caso sappiate che stiamo affrontando proprio le basi di After Effect. Non troverete argomenti avanzati in questa lezione. Affronteremo argomenti più avanzati nel modulo avanzato ma ripeto After Effect è un pozzo senza fine quindi potremo passare ore e ore e ore e giorni e avere sempre argomenti da trattare su questo fantastico software. Se vi siete persi le lezioni precedenti le trovate tutte su questo canale YouTube quindi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche le lezioni del corso che seguiranno. Venite a visitarmi sul sito internet www.fabioambrosi.it. Lì troverete gli articoli scritti di queste lezioni oltre a news su media e tecnologia in generale e per tutte le notizie per restare aggiornati venite su Facebook. La pagina da cliccare e a cui mettere un like se vi va è Fabio Ambrosi. Bene torniamo ad After Effect dicevo applicare un effetto è veramente semplice ma la prima cosa che dobbiamo fare è aprire il pannello degli effetti. Bene in realtà è molto semplice se guardate sulla destra del vostro dell'interfaccia di After Effect trovate un pannello collassato che si chiama effetti e predefiniti. Clicchiamo su questo pannello e vedete apparire vedrete apparire un lungo elenco di categorie in cui sono raggruppati tutti gli effetti di After Effect. Per esempio per lavorare con la correzione del colore troverete la categoria correzione colore espandendo la categoria troverete tutti gli effetti disponibili di default in After Effect che soddisfano appunto il requisito di appartenere alla categoria correzione del colore. Vedete che sono veramente tanti sono più effetti di quelli che troverete per esempio in in Premiere Pro perché in After Effect ovviamente è possibile fare molto di più rispetto a quello che è possibile fare in in software come Premiere o software specifici per il montaggio. Abbiamo per esempio la categoria per lavorare con la distorsione delle immagini quindi applicare effetti lente o effetti particolari sono veramente tanti come vedete ogni effetto può essere combinato e utilizzato in tanti modi ovviamente anche animati è importantissima questa cosa. Se non trovate questa categoria questa questo pannello il pannello effetti predefiniti probabilmente dovete aprirlo dal menu finestra effetti e predefiniti. Eccolo qui facciamo finta che questo sia un pannello chiuso lo chiudo quindi non c'è il pannello degli effetti in questo caso vado nel menu finestra navigo fino ad intercettare la scritta effetti e predefiniti tasto di scelta rapida come leggete control più il tastino 5 clicchiamo e vedete riapparire qui il pannello con gli effetti e i predefiniti. Come fare per applicare un effetto? Bene ipotizziamo di avere una clip eccola qui abbiamo il nostro solito elicottero che decolla lo ingrandiamo un pochettino ipotizziamo di voler modificare il colore a questa clip andiamo nella categoria colore correzione colore eccola qui espandiamo cerchiamo l'effetto che vogliamo applicare per esempio vogliamo applicare delle curve e abbiamo due modi per applicare un effetto o lo trasciniamo direttamente sul livello che vogliamo a cui vogliamo applicare l'effetto oppure facciamo doppio clic sull'effetto dopo chiaramente aver selezionato in timeline l'effetto a cui applicare il livello a cui vogliamo applicare questo effetto in realtà è possibile anche trascinare l'effetto direttamente sul monitor di anteprima come preferite una scelta vale l'altra l'importante è che facciamo doppio clic in questo caso effetto venga applicato bene come fare per modificare gli effetti bene abbiamo già imparato come scalare trasformare ruotare una clip per esempio in after effect bene i parametri le proprietà degli effetti sono accessibili dal pannello controllo effetti lo abbiamo già visto questo pannello quando abbiamo lavorato con i keyframe quando abbiamo modificato la scala la rotazione la posizione di una clip bene con gli effetti è la stessa cosa accediamo a questo pannello e troveremo tutte le proprietà relative all'effetto o agli effetti che abbiamo inserito vedete qui abbiamo la nostra curva modifichiamo la nostra curva e vedrete in pochi istanti l'effetto essere applicato alla nostra immagine un altro luogo in cui andare a cercare i parametri è direttamente nella timeline se andiamo per esempio nella timeline espandiamo le proprietà del singolo livello troviamo abbiamo già visto il livello le proprietà trasformazione ecco quando applichiamo un effetto ci sarà una nuova proprietà chiamata effetti e qui troveremo tutti gli effetti che abbiamo applicato in questo caso abbiamo applicato una curva di regolazione del colore espandiamo e qui troviamo tutti i vari parametri con cui possiamo andare andare a giocare chiaramente tutti i parametri che hanno un cronometrino vedete sono parametri animabili e prima di concludere questa lezione voglio soffermarmi su una cosa molto importante che però non andremo ad approfondire la accenniamo semplicemente accanto ad ogni effetto voi troverete un numero eccolo qui 32 16 8 cosa significa questi numeri questi numeri rappresentano la profondità in bit dei colori ora non entriamo troppo nel dettaglio sappiate solamente che per sfruttare al massimo gli effetti per esempio che hanno il numero 32 accanto al nome dobbiamo dovremmo lavorare con una composizione a 32 bit ok per il momento prendete questa informazione come buona se già sapete di cosa sto parlando bene altrimenti non preoccupatevi per il momento essendo questo un corso introduttivo non è importante andare oltre finisce qui questa lezione come avete visto è molto semplice prima di salutarci posso farvi vedere qualche altro effetto rapidissimamente al più per esempio abbiamo un effetto distorsione la categoria distorsione in cui per esempio possiamo applicare un effetto distorsione che possiamo vedere effetto sfera ok applichiamo l'effetto sfera vediamo cosa accade lì per lì nulla ma se aumento un parametro vedete che viene generata una distorsione di forma di forma sferica dicevo tutto questo è animabile quindi io per esempio posso mettere un keyframe sul valore del raggio della mia sfera andare un pochettino avanti con il tempo far crescere questa questa sfera questo è quello che accade andando in play ok vedete che le possibilità sono veramente veramente tante giocate un po da soli con questi effetti di volta in volta quando faremo tutorial avanzati ne vedremo qualcuno di molto 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 interessante nel prossimo capitolo nella prossima lezione nel prossimo video tutorial parleremo invece dei predefiniti sono potentissimi perché i predefiniti ci permetteranno di applicare uno o più effetti in automatico già preconfigurati per ottenere determinati effetti avanzati ma ne parleremo meglio nel prossimo video tutorial per il momento www.fabioambrosi.it sul mio sito troverete l'articolo anche scritto di questa lezione iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere i prossimi video se vi fa piacere come sempre venite a cercarmi anche su facebook la pagina da cliccare è fabio ambrosi grazie 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 per il supporto commentate questi video se volete domandare qualcosa o se non avete capito qualcosa o se pensate che manchi qualcosa cercheremo di rimediare quanto prima mettete un like condividetelo con i vostri amici per il momento grazie al prossimo video tutorial ciao